Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui farò un riassunto dettagliato di tutte le caratteristiche dell'iPad Air, il tablet di prossima generazione presentato ieri da Apple al keynote ufficiale. Iniziamo col dire che l'azienda si è staccata dalle solite usanze, evitando quindi di attribuirgli nome come iPad 5 oppure iPad di quinta generazione, e ha infatti rimpiazzato questi termi piuttosto comuni con la parola Air, quindi il nuovo tablet di Apple si chiamerà appunto iPad Air. Ma iniziamo a vedere nel dettaglio questo nuovo capolavoro. Cominciamo col dire che Apple ha lavorato moltissimo sulle dimensioni, riuscendo a diminuire del 20% lo spessore, che passa da 9,4 mm, quello dell'iPad 4, a 7,5 mm, raggiungendo tra le altre cose un peso inferiore a 1 pound. Riuscendo inoltre a sfruttare tutto lo spazio a disposizione, si è riuscito a compattare tutti i pezzi hardware in modo da ridurre le dimensioni delle cornici esterne, che come vedete sono decisamente più contenute rispetto a quella a cui siamo abituati. E questo è sicuramente una cosa che io aspettavo da tantissimo tempo, e non solo io ma molti altri, ma è anche un bel punto a favore dell'ergonomia dell'intero device, e noi sappiamo che Apple tiene moltissimo all'ergonomia. Inoltre non sono solo riusciti a ridurre lo spazio occupato, ma ovviamente hanno potenziato esponenzialmente la parte hardware, e quando dico esponenzialmente intendo proprio nel vero senso della parola. Infatti l'iPad Air monterà un processore A7 con architettura 64 bit, esattamente come sull'iPhone 5S. La GPU è 72 volte più potente rispetto a quella dell'iPad 1, quindi l'iPad originale. Questa miscela di componenti hardware rende il nuovo tablet di Apple uno strumento perfetto in grado di far girare i giochi dalla grafica sofisticata e pesanti software grafici di lavoro. Quindi in una parola, perfetto per ogni tipo di esigenza. È stata inoltre introdotta la tecnologia MIMO al Wi-Fi, che ne raddoppia la velocità. Le fotocamere, quella iSight e quella FaceTime, sono rimaste identiche, ma proprio come su iPhone 5S, hanno aumentato la grandezza dei pixel, che ricordo sono comunque rimasti invariati. Ma come sappiamo Apple ha adottato questa nuova tecnologia, per cui bigger pixel uguale better image. Quindi anche mantenendo lo stesso numero di megapixel, con questa nuova tecnologia, si riesce comunque ad ottenere immagini migliori. L'iPad Air sarà commercializzato in tutti i paesi, tra i cui inclusa anche l'Italia, a partire dal primo novembre. E lo potremo trovare in due colori, che sono gli stessi dell'iPhone 5S, ovvero grigio siderale e bianco argento. Ovviamente l'iPad Air sarà disponibile in due modelli, il modello solo Wi-Fi e il modello Wi-Fi più 3G. I prezzi del modello solo Wi-Fi sono questi. Con il taglio da 16GB sarà venduto a 479€, 32GB 569€, 64GB 659€ e 128GB 749€. Mentre i prezzi dell'iPad Wi-Fi più 3G saranno i seguenti, 16GB 599€, 32GB 689€, 64GB 779€ e 128GB 869€. Quindi ragazzi, io spero che questo video in cui ho riassunto tutte le novità che ha comunicato Apple sul suo nuovo gioiellino iPad Air vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, condividete questo video sui maggiori social network per aiutarmi a crescere. Un grande saluto, ciao a tutti!